Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft Allora, ero salito qua per farvi vedere una cosa La farm di funghi A bestia Funziona che è una meraviglia Cioè, i funghi si crescono bene Ok Muori male Muori Bene Looting 3 No, scusa, scusa 12 pezzi di ferro, looting 3 Madonna, io adesso la converto A manuale Perché sinceramente ne faccio molti di più Secondo me No, vabbè Lì c'è l'altro golem Ciao Adesso andiamo a fare... ho preso Sì, si va nel nether, l'avrete capito ormai Un utente Mi ha scritto Mi fa... dice guarda Mi sono preso il tuo seed E vagando Sono arrivato in una In una palude Dove c'è sia una casa Delle streghe Sia una... Sia spawnano, diciamo, degli slime Detto Cazzo Dammi le coordinate che... Insomma che ci vada anche io Ci faccio una puntata In caso Vado a controllare adesso E se è ci facciamo una puntata Quindi adesso sto andando là Per controllare Se effettivamente c'è una cazzo di... Di... base del nether Sì, grande Di witch Spawn Così lo posso chiamare Bene Allora Devo arrivare a 300... 386 E 364 Più o meno da questa parte Adesso prendiamo un po' di... La faccio così, guarda Che almeno mi rimane più facile 386 So che in diagonale si fa prima, ma... E poi per le rotaie è un casino Quindi... Io faccio così e sti cavoli Beh, forse io questo pezzo lo taglio Sì, sì, altra poco Ok Questa è la velocità che io Tengo Sul minecart Ovviamente non alimentato Mi sono sprecato un casino di rail Penso non ne valga la pena Vado molto più veloce a piedi E... no, però Il fatto è che io Mi so, mi ero portato a tre stack E non ci ho fatto neanche a metà percorso Il che, insomma, mi invita A riflettere Vuoi davvero fare una ferrovia nel nether Che ti porti da tutte le parti? Boh, sinceramente Non lo so L'idea mi sta un po' Spaventando Sinceramente In tutti i casi Vedremo un po' Che si può fare Comunque sono dovuto tornare indietro Perché mi ero scordato all'ossidiana Sì Non la porto mai Devo fare i portali Ma io l'ossidiana Non me la porto mai Ma mai 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 È più lento, cazzo È tanto più lento È soltanto un Efficiency 4 Io voglio Efficiency 5 Che è una bestia Non sto scherzando Efficiency 5 È obiettivamente una bestia Gli anni di oro Gli anni di oro Scusate Adesso Vediamo di abbattere Sperando sia andato giù Ottimo Adesso Come al solito Riempio Faccio vari cazzi Scavo Faccio il portale E Stavolta penso Ci rimanga anche più facile Perché Tipo 4 No Come cazzo lo faccio? Qui così Tac Qui apro di più Qui apro di più Così Più o meno Poi ce l'abbiamo 4 Tac Tac Qui scendi ancora un pochino No forse devo scendere ancora un po' Va bene Io lavoro ricchi un po' qua E poi a tra poco Eccomi tornato Ho rifatto tutta la stanza Più o meno Se si può definire stanza Ecco Era quello il più o meno Pronti? Dai 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 Adesso Vediamo un po' Vediamo 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 Download Del terreno Ah si Come al solito Qui bisogna stoppare Perché ci metto una vita Ta da Madonna 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 Aveva ragione Grande Grande Grandissimo Ottimo Ringrazio anche due altri iscritti E vi chiedo E vi chiedo di passare sul loro canale Che sono Uno di questi è Redping L'altro è Nick Nick e Vip ZZ Nick Passate sul loro canale E se vi piacciono i loro video iscrivetevi Ecco che One shot no B shot morto Bene Dovrò passare la notte Perché D'altronde Io sono un genio E non mi sono portato via il letto Quindi Appena è possibile Facciamo un po' di esplorazione Bene Ci vediamo Quando è giorno Ok Ci siamo Continuiamo La nostra Esplorazione E costruzione Poi della farm Di Witch Che farò In questo episodio Allora Ci sono una miriade di funghi Epico Non ho trovato tracce di slime Per ora Ma Magari Farò ricerche più approfondite Magari andando anche in caverna Mi faccio un episodio In caverna O Non lo so Seppa faccio un episodio Perché non penso Mi interessi particolarmente Magari faccio un montage Ecco Comunque Andiamo a costruire questa farm Andiamo a costruire questa farm Allora Come funziona Intanto dobbiamo abbattere La metà superiore della casa E lasciare questa Lasciare il pavimento Dopodiché Che cazzo legno è questo Spruzzo Walkwood Vabbè Dopodiché No non mi dirò l'inventario pieno Gunpowder E anche le fence Voglio le fence Voglio le fence E il fungo Bene Fatto questo Bisognerà poi ricostruire una Una successiva Piattaforma superiore Ma di Di tre blocchi In questo modo Dovrebbero spawnare Molte streghe Cioè dovrebbero spawnare Proprio le streghe E lasciando Sì Dicevo di tre blocchi E poi Ne facciamo Una anche sotto Di altri tre blocchi E vediamo un po' Cosa viene fuori Io sono abbastanza Speranzoso Comunque Questo è il procedimento Adesso taglierò il video Perché Penso sia abbastanza noioso La piattaforma Deve essere fatta Nove Per sette Qui Divende quanto siamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Uno da una parte o nell'altra Uno Due Tre Quattro Cinque Sette Sette Otto Quindi manca una Bene Tac 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 Facciamo una anche di qua Ovviamente non mi basterà il legno Però Io Ho i rinforzi Faccio di oak wood Tanto è uguale il legno La varietà di legno Diciamo Non cambia Cioè non è importante Di che il legno è Faccio dietro o davanti Boh Tanto mi devo questi Vabbè Io aspetto Faccio Tutte le modifiche del caso Prenderò Ah questi non mi centrano Giusto Devo buttare qualcosa Che cazzo butto Adesso è dura La scelta Vabbè Comunque Ci rivediamo tra poco Quando ho finito la farm È giunta notte Io sto finendo la farm Adesso voglio controllare bene Se davvero funziona L'efficienza della farm E quindi Me ne starò qui Buono buono Anzi mi allontano Magari anche un po' Andai per vedere Se spawnano streghe E sulla wiki Dice così Di farla In questo modo Poi andrà A fare un tettuccio sopra E magari Vedere E lasciare tutto buio Illuminare Tutto l'intorno Poi andiamo a cercare Allora Queste sono le varie Piattaforme di spawn Una Due E tre Ho fatto il contorno In mezzo Perché come funzionerà La farm Le streghe si muoveranno All'interno di queste Piattaforme Cadranno All'interno Qua sotto Dove scaverò Una corrente d'acqua Che le porterà Non so ancora dove O A una A una zona dove ci sono Sotto le Gli hopper E sopra Magari due Tre golem di ferro Oppure addirittura Le faccio ritornare in su Con un sistema d'acqua E le killo io Manualmente Non lo so Vabbè Qualcosa mi invento Mi posso inventare Qualcosa Anche Di bello e interessante Adesso La parte più difficile Però sarà Chiudere il tutto Perché porca puttana Mi ci vorranno Tipo due mesi e mezzo No Non sto scherzando Ci vorranno Di avere una vita A chiudere tutto E Comunque Il fatto di aver trovato Gli slime è molto positivo Adesso Iniziamo Iniziamo Piano piano Iniziamo Inizio da qui Che è più basso Il terreno Magari Io lo volevo fare di legno Penso Infatti lo farò di legno Perché È più È più bello È più bellino Andiamo qua Ah Un'altra cosa Che voglio dirvi Tornando al discorso Di ieri Di quel bug Di cui vi parlavo Forse Parecchi di Io non mi sono espresso bene Parecchi di voi Mi hanno frainteso Io Quando sono entrato Nel 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 land Avevo già trovato Già avevo le risorse Già Ho creato il mondo L'avete visto Si vede bene Nel primo episodio Che non ho abilitato I cheat Quindi Anche volendo Avrei dovuto installare Too many items E altre cose Ergo Che cosa ho fatto Quando ho visto Che davvero Era un bordello Un casino Sono andato A guardarmi Su internet Come far Resettare il land Quindi io Adesso Il land Ce l'ho pulito Ho solo sconfitto Il drago Non ho strutture Di nessun tipo Era questo che Tendevo Volevo precisare Ecco Perché magari Qualcuno fraintende E E scrive qualche Stronzata Come commento Sotto i tuoi video Il che mi da Abbastanza fastidio Comunque Questa spedizione Per ora si conclude Qua io vado Torno a casa Vado a prendere del legno Poso un casino di roba E ci rivediamo Appena possibile Fammi prendere Madonna Di dove cazzo Ho detto le slime ball Ho trovato anche la farm di slime Eh Hoppy Veramente hoppy Io ragazzi Niente Vi dico Ci vediamo tra poco Eccomi qua Ho preso Giusto un po' di legno Ma giusto un po' eh Ma poco poco Che Probabilmente Mi basterà Sicuramente Probabilmente Sicuramente Vabbè Io Continuo qui Le mie Disavventure Con le streghe No Pensavo fosse un drop Fosse morta male Una strega Invece no Non c'è verso Non lo so Non so manco Se funzionerà io In teoria Cioè la wiki Dice di farla così Però che ne sai Eh non Non so Sinceramente Come si fa Cioè So come si fa In teoria Così Dice la wiki Di minecraft Io però Non lo so Continuo Imperterrito La mia costruzione E ci vediamo Tra poco Quando penso Eh di aver Completato tutto Perché poi dovrò fare Ah no Non c'è voluto Nemmeno tanto Devo fare anche Un tettuccio Eh sì Devo fare un tettuccio Perché È di Un tettuccio Di coso Di Di slab Ecco Per evitare lo spawn Perché sugli slab Non può spawnare nulla Se non lo sapevate Ve lo dico adesso E' considerato Blocco non solido Blocco trasparente E quindi Non può passarvi Sopra nulla Infatti Se mettete uno slab Sopra una cassa La cassa si apre Piccole nozioni Di Minecraft A tra poco Bene Ho finito di fare questo Adesso sto facendo Il tettuccio Il tetto Poi farò Il tettuccio Che è diverso Ah dai Porca troia Mi tocca farlo Adesso questa parte interna La faccio di Di slab Quelli belli Poi il resto Cobblestone a manetta Cioè Non mi metto a cuocere La stone Per fare La cuocere Ma mi metto a cuocere La cobblestone Per poi fare una struttura In cui starò A FK Sicuramente E poi Molto raramente Perché poi Sti cavoli Dei drop Insomma Dei Delle streghe Vivo uguale Eh Quattro Mettiamo Qualcuno qui Due And due Crafting table Alla mano Tac Fatti due slab Il bello di avere Tante risorse È anche questo Che non hai problemi A fare niente Cioè Fai Sessanta Settanta Sì Sessanta Che cazzo dico Fai tre quattro stack Di slab Ok Tranquillo Lo faccio È la comodità Di avere un casino Di risorse Un magazzino Ben organizzato Adesso Vediamo di uscire Da qui dentro E chiudere poi Devo fare anche una scala Però ce l'ho Diato delle scale Ma col cazzo Me le sono pure Portate a casa No ce l'ho L'ho vista Ecco Va bene Qui ovviamente Vi ero ripeto Non potrà spawnare Nulla E adesso Continuerò a fare Il contorno Finché ci sono gli alberi Ad aiutarmi Sarà facile Fanculo Vabbè Mi giostro io A tra poco Eccoci qua Questo è quanto La costruzione È praticamente finita Ovviamente Ho le scale Poi mi butto È logico Comunque Adesso voglio andare A controllare Scaricherò il chunk Controllo Quante streghe Sono spawnate E poi Questa casa Delle streghe Farm Streghe Witch farm Come cazzo Vi pare È finita Vado solo A vedere Se è spawnato Qualche altro Slime Ma questo Sarà un approfondimento Che faremo In una Delle prossime Puntate Questa era La zona Delimitata Da un bel Pillar Di terra Ovviamente No Vabbè Ma Giostrerò io Le ricerche Anche sotto Terra Andando E a fare Un po' Di mining Perché poi Ho una costruzione Interessante Da proporvi A me comunque Il layout Non è malaccio Cioè per una farm A me sembra Discreto Carino Che dite No Non vi piace Beh si Cioè Non mi dispiace Non mi dispiace Si può Vediamo un po' Cosa succederà Se spawnerà qualcuno O meno Io adesso Faccio i controlli Del caso E poi Ci rivediamo Allora Ho fatto Delle Delle prove E ho tratto Diciamo Delle considerazioni La mia idea È che Non è così Efficiente Il punto è La piattaforma sotto Spawnano Scheletri Zombie E quindi Non serve A un cazzo E la batterò Probabilmente L'unica cosa Qualche strega Spawna Però Non lo so Guardate Ancora In fase di sperimentazione Secondo me Non è proprio così Efficiente Ho visto video Su youtube Che dicono Wow Efficienza 1800 drop Per ora Così Non lo so Io Non Questo è quanto Magari poi Illuminando Facendo meglio Tutte le varie strutture Verrà Mele Verrà Insomma Aumenterà Efficienza Comunque Io Intanto vi ricordo Di lasciare un mi piace Di condividere il video Se vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Di Se volete vedere video Su Call of Duty Clash of Clans Boom Beach Trattiamo Queste Attualmente abbiamo Queste quattro serie Attive Quindi fate un salto Sul nostro canale Se volete vedere Una di queste quattro serie Se vi incuriosisce Magari E niente Io nei prossimi video Quindi nel video di domani Mi informerò Se avrò delle modifiche Da apportare Le apporteremo Nel caso andremo a cercare In miniera Slime Per Fare Appunto effettuare la farm Di Tanto diciamo Sospira la farm di slime E potermi sbizzarrire Nelle peggiori costruzioni Che Tutti voi Possiate immaginare Io Vi saluto Vi ringrazio per aver visto il video Vi aspetto a domani Ciao a tutti